Ciao malati di cripto, oggi voglio parlarvi della blockchain di riferimento per tutto lo sport e il mondo dell'intrattenimento. Sto parlando di Chillitz. In questo video faremo una panoramica di che cos'è Chillitz, di come funziona il suo ecosistema e in più a fine del video vi presenterò delle novità molto importanti per quanto riguarda questo progetto. Cos'è? Come funziona? Chillitz, con il ticker CHZ, è la valuta digitale principalmente per il mondo dello sport e dell'e-sport. Al momento la blockchain Chillitz e il suo token alimentano la piattaforma socios.com. Chillitz consente alle squadre e alle organizzazioni sportive di creare il proprio FUN token. I FUN token sono degli utility token dedicati per la propria squadra preferita. Sono basati sulla tecnologia blockchain di Chillitz, ma non sono delle vere e proprie criptovalute, perché non possono essere spese per comprare dei beni, però utilizzano, come detto poco fa, la tecnologia blockchain e quindi hanno le stesse proprietà di qualsiasi altra criptovaluta. I FUN token acquistati su socios.com danno diversi benefici a chi detiene il token della propria squadra. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che piano piano si sta iniziando a dare più potere ai tifosi, o meglio alle persone. I detentori dei FUN token sono in grado di modificare e di influenzare le decisioni sportive del club stesso. Ad esempio i FUN possono influenzare il colore della maglietta della propria squadra, i loghi sul pullman, come sono fatti gli spogliatoi, quindi cambiare le grafiche degli spogliatoi, cambiare addirittura la musica di riscaldamento prima della partita, e in realtà molto altro. E dall'altro lato i FUN che utilizzano la piattaforma socios.com ottengono dei punti fedeltà in base al proprio engagement, quindi in base a più la utilizzano, più vengono ricompensati, e dopo un po' con questi premi possono ricevere in cambio del merchandising, quindi ad esempio la maglietta del proprio calciatore preferito, le scarpe autografate, posti VIP allo stadio e molto altro. Se ti sta piacendo l'analisi e stai trovando informazioni utili, metti un pollice in su a questo video, ci aiuti a crescere, e soprattutto iscriviti al canale per non perdere le analisi che faremo in futuro. La votazione funziona come qualsiasi altra proposta di governance. La squadra crea una pull con la votazione da effettuare, e i fan possono votare queste proposte in base a quanti fan token hanno. Un fan token equivale a un voto. Ovviamente più fan token si hanno, più il proprio potere di voto aumenta. Devi sapere che socios.com è stata lanciata nel 2019, e da quel momento ha iniziato a integrare sempre più squadre all'interno della propria app. Ma in realtà al momento ci sono oltre 160 squadre, club o team, quindi non solo italiane perché Cilliz barra socios stanno espandendo il loro business a livello globale. E non solo nel calcio, ma anche ad esempio per quanto riguarda l'UFC, quindi combattimenti di MMA, Formula 1, football americano e molto altro. Diciamo che la cosa bella è che c'è limite solo alla fantasia, perché come ben sapete gli sport sono tantissimi e le squadre altrettanto. Quindi a detta del fondatore, al momento non sono neanche al 10% del loro intero potenziale. Il team. Questa società ha più di 270 dipendenti sparsi per tutto il mondo. E il fondatore si chiama Alexandre Dreyfus. E devi sapere che detiene il 67% dell'intera società. La società al momento ha mezzo miliardo di controvalore in dollari come cassa per poter alimentare e contribuire alla crescita di tutto l'ecosistema. Cilliz può essere comprato sia direttamente sull'exchange Cilliz.net oppure tramite l'app socios.com o anche sugli exchange più grandi e più conosciuti tra tutti, quale ad esempio Binance, FTX, OKEX, Kucoin e molti altri. I token Cilliz principalmente servono sia per effettuare transazioni sulla blockchain di Cilliz che però al momento è privata e te ne parlo un attimino più avanti di quello che penso, sia soprattutto per partecipare alle fan token offering, ossia la vendita iniziale di fan token relativi a quel club o a quel team in particolare. La tokenomics. In questo momento il prezzo di un singolo Cilliz si aggira intorno ai 18 centesimi di dollaro e il progetto capitalizza poco più di un miliardo di dollari. La fornitura totale di Cilliz, quindi il numero massimo di Cilliz che esisteranno per sempre, è di 8 miliardi, 888 milioni e 888 mila. E devi sapere che al momento il circolante si aggira intorno ai 6 miliardi, quindi stiamo parlando di circa un 68% di tutti i Cilliz in circolo. Qui nel dettaglio possiamo vedere come vengono gestiti i fondi, quindi abbiamo un 58% per le spese operative, un 20% per acquisizione di utenti e poi la parte proprio legata all'ecosistema, alla sicurezza e alla parte legale. Perché devi sapere che la missione di Cilliz non è per niente facile e questo appunto secondo me potrebbe essere un leggero scoglio, ossia è l'ottenere regolamentazioni da parte di tutti gli enti in tutto il mondo. Perché devi sapere che ogni squadra appartiene a una nazione, ogni nazione ha delle leggi precise e diverse dalle altre e quindi il lavoro di Cilliz, lato legale, è veramente qualcosa di pazzesco. Il token Cilliz ha un meccanismo di burning, ossia porzioni di Cilliz vengono distrutte per sempre e tolte dalla circolazione. Il meccanismo di burning è stato introdotto il 23 gennaio 2020 e funziona in questa maniera. Il 20% delle commissioni generate dall'exchange Cilliz.net verrà burnato, il 10% del ricavato netto di tutte le token offering verrà burnato e il restante profitto verrà loccato per tre mesi. E infine il 20% del ricavato degli NFT verrà utilizzato per burnare Cilliz. Al momento sono stati burnati circa 65 milioni di Cilliz che equivalgono all'incirca a un 0.74% di tutta la supply. Questo in realtà non mi ha fatto impazzire nel senso che da un lato c'è stato poco burning, quindi in questi due anni hanno tolto dalla circolazione meno dell'1% di tutta la supply. E dall'altro lato questo mi potrebbe anche far pensare al fatto che il protocollo al momento non abbia generato chissà quante revenue. Salute del network. Un problema che ho riscontrato in questo progetto è il fatto che non sono riuscito a trovare dei dati specifici per quanto riguarda le transazioni, il volume delle transazioni, il volume dell'exchange, le revenue che ottiene e quindi i profitti che riesce a fare. Perché devi sapere che Cilliz, almeno la versione 1.0 della blockchain Cilliz, è privata. Quindi oltre a vedere il numero totale di transazioni non si può vedere nient'altro. Ragion per cui purtroppo non posso portarvi nessun dato concreto. Una cosa invece secondo me molto importante e che potrebbe contribuire a far esplodere il prezzo di Cilliz è il fatto che entro fine anno vogliono lanciare la blockchain di Cilliz 2.0 chiamata Cilliz Chain 2.0. Una curiosità è il fatto che il nome è stato scelto tramite una proposta di governance da tutti gli utenti. La Cilliz Chain 2.0 permetterà a Cilliz Token di esprimere tutto il suo intero potenziale perché appunto diventerà multichain quindi attraverso dei bridge si potrà esportare il token su altre blockchain e inoltre importantissimo si abiliterà la funzione di staking quindi gli utenti potranno mettere in staking i propri Cilliz e guadagnare ricompense contribuendo a mettere in sicurezza tutto il network e una cosa secondo me importantissima che mi ha fatto veramente tanto piacere è il fatto che anche tutti i club con cui Cilliz collabora possono diventare dei nodi validatori. In questa maniera possono sia convalidare le transazioni sulla rete stessa dall'altro lato guadagnare delle commissioni perché appunto validano le transazioni sulla blockchain di Cilliz e infine contribuiscono anche ad aumentare tutta la sicurezza di tutto l'ecosistema e secondo me questo è un grande win-win sia per le società sportive che in questa maniera riescono a generare ulteriore revenue per se stesse sia per il fatto che mettono in sicurezza tutto l'ecosistema e di conseguenza rafforzano l'ecosistema stesso. Infine la Cilliz Chain 2.0 permetterà il minting di NFT. Ho sentito recentemente un'intervista del fondatore all'incirca un paio di settimane fa quindi abbastanza fresca e lui vuole puntare tantissimo sugli NFT perché crede che gli NFT avranno un ruolo molto importante nel futuro e soprattutto verranno utilizzati come avatar quindi come immagini profilo sui social o nei vari metaversi proprio per far vedere alle persone che squadra si tifa. Una piccola curiosità vi lascio qui il numero di holders per i vari fan token fa abbastanza sorridere che noi italiani siamo i primi in classifica questo è segno che comunque gli italiani sono molto tifosi e hanno capito evidentemente la potenzialità di questo progetto. Cilliz è un token che ha fatto parlare tantissimo di sé nei mesi scorsi e io credo che questo token non ha ancora raggiunto per niente il suo potenziale la società che ci sta dietro è solida il fondatore mi sembra una persona molto solida il suo motto diciamo è education, education, education perché anche lui capisce la necessità di educare le persone a questa nuova tecnologia ma io sono sicuro che il potenziale che esprime e che potrà esprimere questo token non lo abbiamo ancora visto sono molto curioso di vedere l'evoluzione di questo token e di questo progetto con l'introduzione della Cilliz Chain 2.0 che potrebbe essere veramente un game changer sia per l'azienda sia per le squadre sportive ma soprattutto per i veri tifosi che finalmente possono riuscire a trovare valore nel tifare la propria squadra ed essere ricompensati anche per farlo e voi detenete il token Cilliz? qualora te la fossi persa ti lascio l'analisi di CRO che ho fatto settimana scorsa per oggi è tutto ciao malati di cripto alla prossima